Amato Giovan Battista. Amato Giovan Battista. Che bel nome, eh? Un nome di un santo. Sì, ma amato anche bello. Anche amato. E siciliano? Sono nato in Sicilia, ma vivo qui in Toscana da 46 anni, tutta la vita. E non torni mai in Sicilia? Sì, una volta ogni 20 anni. Ah, wow. Ci sono stato l'anno scorso otto giorni così, per girarla un pochino. Nel mio paese ci sono stato otto ore e basta. Mamma mia. E poi solo andavo via a girare. Qui mi ritrovo bene in Toscana, ci ho passato, ho tutta la famiglia, la mia casa, come essere in trasferta. Vero. E quanti orti hai? Ho tre orti. Ogni orto è formato di 100 metri. Grande. In totale sono 300 metri. Lavorando con la fantasia mi fa guadagnare 100 euro al giorno. 100 euro al giorno. E in dollari come si chiamano? Dollari? Sì. 70 dollari, vai. Eh, 70 dollari. No, 70 centesimi. No, no, sarebbe 30 dollari. In dollari 130 dollari. In euro sarebbero 70. Però lavorando con la fantasia e ci sono un pochino le spese perché tutti i lavori c'è la roba primaria da comprare, terriccio, piantine, questa roba. C'ho le spese di 99 euro. Quante me ne rimanco facendo la sottrazione? Un caffè. Un caffè ha malapena. A volte sì, a volte no. Vale la pena assappare la terra perché la terra si chiama essere bassa. Che è meglio appare di terra o appare di tavola? La domanda. Com'è meglio appare di terra o appare di tavola? La terra buona che abbiamo? No, è meglio sempre, se lo dico qui, perché la domanda è per loro. Ah. Domanda. Che è meglio appare di terra o appare di tavola? Appare di tavola. Eh. La, ta, eh sì. E si mancia. E si mancia. Eh? La terra qui, facendo l'orto, ci vuole l'uomo morto. La terra è troppo bassa. Perché ci vuole l'uomo morto. Quando arriva, si arriva a buio e viene il mar di vita che si chiama vita. Ah, bello. Eh. Il mar di vita che si chiama vita. Vita mia, addrizzati. Ah, bell'era. Grazie.